Salve, c'hai Martina? Oh Gesù, Gesù, vieni, vieni. Martina si sta preparando. Questi li togliamo perché a Martina le cose morte fanno tristezza. Questi pure perché detesta gli zuccheri, invece indovina a chi piacciono. E adesso tu. Mia figlia è una ragazza piena di particolarità. È complessa. Pensi di essere all'altezza? Penso di sì, ma in che senso? Per prendersi cura di Martina bisogna conoscerla, capirla, apprezzarla. Ed è un viaggio lungo. Pensi di avere abbastanza benzina? Ma guardi, ho appena messo 5 euro. Poi andiamo dietro l'angolo, quindi... Arrivo. C'è. Eccomi. Buon lavoro mio. Sì, questi? I crisantemi. Ma sono per me. Per me. Che culo. Vabbè, noi andiamo. Ciao. Ciao. Beh... Arrivederci. Arrivederci. Cinque euro. Cinque euro.